Ciao a tutti, sono il maestro Alessandro Santagati e in questo video ci occuperemo della partita giocata tra il grande maestro cinese Shang Leilu da bianco contro il grande maestro ucraino Aleksandr Moisenko. Questa è la partita numero uno del primo turno della World Cup che a sorpresa ha visto la vittoria del grande maestro cinese da bianco, vediamo la partita, allora il bianco ha giocato a e4, c5 dunque difesa siciliana, cavallo in f3, cavallo c6 alfiere b5, questa è una variante molto utilizzata diciamo che ha l'idea di pressare sul cavallo ed eventualmente creare l'impedonatura e il nero risponde con d6, a roc alfiere d7, chiaramente per coprire comunque sia la diagonale e per difendere il cavallo a questo punto torre 1 che è una mossa diciamo molto elastica perché effettivamente in questa posizione il bianco avrebbe potuto giocare anche cavallo c3 o altre mosse, torre 1 una mossa elastica perché comunque sia da ancora la doppia possibilità di giocare o c3 per esempio per fare d4 o comunque sia cavallo in c3, cavallo in f6, c3, dunque il bianco opta per la linea c3 con l'idea di giocare d4, a6, a questo punto il bianco deve scegliere se cambiare o eventualmente tornare indietro con l'alfiere, entrambe le mosse sono giocabili e in questo caso il bianco ha deciso di rimuovere l'alfiere, torre 1 è utile anche per questo perché dà una casa in più all'alfiere perché nel caso in cui la torre fosse stata in f1 probabilmente l'alfiere sarebbe dovuto andare su a4 e magari in futuro su c2, con la torre in f1 adesso l'alfiere può andare anche su f1 cosa che poi ha fatto il grande maestro cinese. Adesso alfiere g4, perché questa mossa diciamo che il nero ha mosso due volte l'alfiere ma non è un problema perché l'alfiere su d7 era utile finché c'era l'attacco sul cavallo in c6, dato che questo attacco non c'è più e dato il fatto che comunque l'alfiere campogliaro del nero non ha molto gioco in questo tipo di posizione, inchiodare il cavallo è sicuramente una buona cosa anche perché mira indirettamente a controllare il punto d4 pressando sul difensore. A questo punto il bianco gioca d4, spinge comunque c per d4, c per d4. Può essere interessante qui ragionare cosa succede su alfiere per f3, diciamo che su alfiere per f3 il bianco può prendere di pedone perché è vero sì che indebolisce la rocco creando questa impedonatura, ma è anche vero che siccome il bianco ha davvero tantissimo spazio e il nero deve ancora svilupparsi, questa teorica debolezza qui non è importante perché il bianco rimane comunque attaccabile e dunque non è una buona soluzione per questa ragione. Diciamo teoricamente una debolezza ma in questo caso non essendo sfruttabile e il nero essendo indietro con lo sviluppo non ottiene praticamente nulla. Per questa ragione qui il nero gioca d5 dunque cerca di liberare una casa per l'alfiere al tempo stesso per stare sul centro e il bianco gioca d5. Cavallo su d4, alfiere d3 pressando il cavallo e a questo punto il nero diciamo in pedona, però come ho detto prima non è una grossa debolezza perché il re del bianco è sostanzialmente in attaccavo, il nero al momento non ha abbastanza pezzi. Alfiere c8, qui il problema del nero è che non ha tante case per il suo alfiere perché teoricamente può andare o su d7 o su c8 o su h5. Su alfiere h5 questo alfiere rimane praticamente fuori gioco perché potrà solo andare su g6 e attaccare 4 non è così conveniente perché è saldamente diverso dal pedone f3. Se va su d7 alla fine comunque sia non ottiene moltissimo perché io posso prima bloccare la spinta eventualmente b5 ma a4 e poi comunque giocarmela con l'attacco su b7 e l'alfiere in d7 rimane comunque senza praticamente case. Per questa ragione il nero sceglie alfiere c8, una mossa tra virgolette un po' strana ma che ha l'astrologia dal fatto che tutte le altre case effettivamente non davano grandi soddisfazioni al nero. Cavallina 3, questa è una mossa interessante perché quando noi sviluppiamo il cavallo non dobbiamo pensare a dove piazzarlo sul momento ma qual è la casa secondo noi ideale. Qui il bianco fa questo ragionamento, vede che la casa b6 effettivamente è debole, l'alfiere già copre questa casa, dunque il bianco diciamo comprende che una casa ideale per il cavallo potrebbe essere la casa c4 e dunque cavallo a3 può essere utile per quest'idea. Dunque cavallo a3, alfiere 7, se qui il nero avesse giocato b5 per evitare cavallo in c4 allora il bianco avrebbe magari guardato sulla casa c6. Casa c6 che è debole su colonna aperta e dove il bianco effettivamente può provare ad andare tramite un attacco del genere anche col cavallo, dunque il nero diciamo risolve un problema ma se ne crea un altro. Dunque il nero gioca alfiere in e7 e a questo punto cavallo c4. Cavallo d7 per difendere la casa b6, donna d2. Diciamo il bianco giustamente deve scegliere una casa per la donna e così mette anche in comunicazione le sue tori. Arocco e a questo punto f4. Come dicevo prima questa debolezza non era così grave e poi effettivamente quando vuole il bianco la può togliere tramite questa spinta dunque f4 è sicuramente una buona mossa perché? Perché se il nero comunque prende il pedone il bianco può attaccare la debolezza d6 e dunque qui la posizione del bianco è davvero molto molto interessante. Prima quando ho parlato della nostra donna d2 mi sono dimenticato di dire che effettivamente donna d2 oltre che è utile per togliere la donna dalla prima traversa è anche utile perché nel caso di b5 allora è possibile cavallo a5 con l'idea di coprire la casa c6. Dunque questa potrebbe essere un'altra idea interessante. Allora f4 adesso b5 cavallo a5 dunque come ho detto il cavallo adesso può capire su a5 il nero prende alfiere per f4. Il grosso problema del nero è come sviluppare questo alfiere perché comunque su b7 sarebbe passivo e su questa diagonale non ha praticamente case utili. Dunque un grosso problema. Cavallo a5 alfiere g2 perché chiaramente la minaccia era il doppio su f3. A questo punto alfiere d7. Non avendo altre case utili il nero si accontenta di piazzarlo su d7. Torre a c1. In questa posizione abbiamo una sola colonna aperta dunque è importante cercare di sfruttarla e il bianco giustamente piazza la torre su c1 anche sfruttando il fatto che i pezzi del nero sull'ottavo sono disorganizzati perché la donna è rimasta ancora sull'ottavo attraversa. Dunque non ha permesso alle sue tori di entrare in comunicazione. A questo punto arriva torre c8 cercando di contrastare il dominio sulla colonna e torre per c8, donna per c8, torre c1. Ora la situazione per il nero si fa sicuramente difficile. Il bianco sta sicuramente messo meglio ed è difficile qui trovare la mossa corretta che era donne 8. Cerchiamo di capire perché questa è la mossa giusta. Perché su donne 8 e per esempio l'entrata di torre su c7 il nero avrebbe potuto rispondere con un alfiere d8 e dopo torre a7 in qualche modo il nero avrebbe potuto cercare un contrattacco interessante con mostre del genere perché l'alfiere non si può prendere per via dello scacco su f3 con cui chiaramente il bianco perderebbe la donna. Dunque donne 8 era una mossa interessante e aveva l'idea di cercare un contrattacco sul re. Dunque l'idea era poi anche di fare f5 per attaccare in questo modo. Sicuramente un piano difficile da trovare in questa situazione però che era l'unico possibile perché dopo la mossa che ha giocato Moisenko c'è donna 8 qui il bianco sta sicuramente meglio mentre diciamo qui si imponeva sostanzialmente il piano con donne 8 che mirava a sfruttare anche il fatto che l'erocco era un po' debole. Il cavale nei 5 poteva comunque giocarsela bene al fiare in h3 poteva anche aiutare. Dunque donne 8 qui era sostanzialmente l'unico piano possibile cioè quello di attaccare sul lato di re in questo modo. A questo punto dopo donna a8 il bianco cambia sui 5 e dopo torre c7 sta sicuramente meglio perché entrambi giocano sul lato di donna solo che qui sul lato di donna il bianco è sicuramente messo meglio. Donna e8 per difendere l'alfiere e a questo punto cavallo b7. La situazione è chiaramente diversa perché senza il cavallo nei 5 adesso e con un maggior numero di mostre per il bianco sul lato di donna l'attacco adesso sul lato di re diventa molto molto difficile e a questo punto a questo punto dunque al fiare per di 8 il nero prende. Donna c3. Donna c3 è una bella mossa perché effettivamente il bianco rafforza il suo controllo sulla colonna c e al tempo stesso crea minacce interessanti come il pedone 5 che non è facile a difendere. Dunque il nero deve fare torre 8. Logicamente f6 non convince perché comunque si indebolisce la diagonale e sembra non essere così efficace. Dunque torre 8. Donna c5. Il bianco cerca di rafforzare i suoi pezzi. La donna entra in gioco e sfrutta comunque sia le varie case comunque sia deboli utili sul lato di donna dove può creare effettivamente molti fastidi qui al nero. Dunque al fiare c8 con l'idea di difendere il pedone a6 e a questo punto a3. A3 ha l'idea di cercare di evitare anche un possibile controgioco del nero. Dunque h6 rf1. Adesso la strategia del bianco è molto interessante perché il bianco ragione in questo modo. Vede che il nero non ha praticamente nessun piano disponibile e dunque prima di proseguire col suo piano cerca di evitare questo tipo di controgioco possibile per il nero. Perché l'idea del bianco sarebbe quella di spingere il pedone d6. Se spingesse subito allora magari dà qualche chance tramite mosse come alfiere g4. Poi magari seguito da donna g5 per esempio la spinta in mera non si può fare perché chiaramente l'alfiere prende. Dunque immaginiamo che il bianco cerchi di non so di giocare qualcosa come tora 7 per rafforzare. Comunque non ottiene moltissimo perché dopo donna g5 il nero ha comunque sia un buon controgioco. Dunque per evitare qualsiasi problema di questo genere il bianco prima toglie il controgioco con f1 dunque togliendo il re dalla colonna g e poi dopo f5 il bianco porta semplicemente il re su e1 per evitare ancora una volta qualsiasi tipo di controgioco e qualsiasi tipo di tempo al nero che magari dopo che l'alfiere va via poteva eventualmente dare schiacco su h3 con l'alfiere. A questo punto il nero prende cercando di aprire un po' il gioco alfiere per e il re n1 si ritrova in un'ottima posizione perché non è possibile alfiere h3 scacco e tutti i pezzi sono legati perché la donna deve rimanere qui perché se no l'alfiere è perso. Se va via non solo l'alfiere su g4 allora a questo punto noi possiamo spingere perché minacciamo sia d5 sia c8 sia eventualmente in futuro la spinta. A questo punto il nero gioca alfiere h3 donna c6 dunque ancora una volta il bianco attacca la torre legando i pezzi cioè il nero non ha libertà nel controattacco torre 7 e a questo punto d6 il pedone viene spinto dato che adesso il supporto c'è torre 8 d7 e dopo torre c8 logicamente non c'è più nulla da fare perché l'unica mossa possibile è sempre donna per d7 tuttavia dopo la semplice donna per alfiere per e alfiere d5 scacco il nero perde la torre in f8 e dunque perde anche la partita dunque logicamente dopo d7 cioè scusatemi dopo torre c8 il nero abbandona perché non c'è più nulla da fare vi ringrazio dell'attenzione e vi do appuntamento per il prossimo video con la sempre con la world cup grazie e alla prossima ricorda di seguirmi sui social networks e di condividere il video grazie